Sì, ho avuto tanti problemi dall'inizio, ho pagato magari che non ho fatto la preparazione, magari queste cose dopo, durante l'arco del campionato si pagano, ho avuto dei problemini, niente di serio, ma tanti piccoli che mi hanno fatto giocare poco. Adesso niente, ho rientrato l'altro giorno, volevo fare più minuti possibili, sono riuscito a fare i 90 minuti, sono contento e adesso dobbiamo preparare, quando sappiamo contro chi dobbiamo giocare, la partita al meglio possibile. Adesso ci sono delle partite molto diverse da quelle che ci sono in campionato, perché magari uno sbaglio ti può lasciare fuori e rovinare quello che hai fatto durante tutto l'anno. Allora noi bisogna sicuramente stare tranquilli, fare il gioco che facciamo noi durante 90 minuti ogni partita e niente, pensare sempre che se facciamo quello che abbiamo provato sempre ci è andata bene, allora bisogna continuare a fare le stesse cose. Questo è sicuramente un vantaggio importante, quello che volevamo fare noi era arrivare terzi, che alla fine non siamo riusciti, però era importante, si è visto anche l'anno scorso che il Bologna alla fine quello che ha fatto la differenza è stata la posizione durante il campionato, però noi dobbiamo essere tranquilli perché secondo me siamo molto forti, stiamo bene fisicamente e ce la giochiamo. La tua preferenza? Ma preferenze non ce ne sono, sono squadre molto diverse, uno magari più importante sotto l'aspetto del pubblico e la qualità, invece l'altro è una squadra molto più quadrata, però ti possono mettere in difficoltà tutti e due. Favorito? Perché i giocatori hanno fatto, i singoli hanno fatto molto bene, poi si è visto anche un lavoro di gruppo molto importante, poi il gioco del Pescara era quello più bello anche di vedere, allora questo qua ha fatto che ci diano di favorito, però sai, playoff, sbagli qualcosina, sei fuori, allora bisogna essere concentrati e lasciare tutto quello che è stato, è un mini torneo e bisogna farlo il meglio possibile. Il mio contratto finisce adesso, alla fine dell'anno, e niente, ho fatto poche partite, anche se mi sono trovato bene qua a Pescara, però sai, dopo si deciderà la politica della società, sapranno i dirigenti cosa vogliono fare.